Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Trieste in diretta, quest'oggi essendo mercoledì, ricordo che nello spazio dalle 19 alle 19.25 circa ci occuperemo della CISL con appunto CISL Inform. Nella prima parte siamo in compagnia di Franco Bloccari che è tornato a trovarci, grazie Bloccari per essere di nuovo con noi, per parlare della festa per i 75 anni del San Giovanni che è in programma domenica 18 dicembre in Sala Tripkovic, spero che faccio vedere anche la locandina, festa che ti vede componente il comitato organizzatore. Allora, 75 anni, non sei male. Non sei male. Li portiamo bene. Li portiamo bene. Il San Giovanni è stato fondato nel 1941 durante la guerra, è iniziato col settore giovanile naturalmente, col campionato federale ragazzi perché i ragazzi di leva erano tutti a militare, no? Insomma, hanno partecipato al campionato federale ragazzi, questi giovani con esso Filippon che era un allenatore e con lui Marcello Vecchiet e Umberto Vufalo sono i padri del calcio giovanile triestino. E hanno iniziato quel giovanile, poi dopo la guerra si sono formate le squadre e così è andato avanti con certe difficoltà perché naturalmente dopo la guerra non c'era niente. Avevamo i primi due cacciatori stranieri, Parker e Loom, due inglesi della caserma di Via delle Rocce, degli inglesi, durante l'occupazione alleata e sono tornati anche per il sessantesimo a trovarci. E poi perché quella volta non c'era niente, ci hanno regalato due mupe di mali e mi ricordo una aveva le strisce orizzontali come il Lesbos, il Celtic di Lesbos e un'altra blecole, quelle me le ricordo da sempre perché poi si giocava con le mali rattoppate sotto le ascelle perché non c'era niente, le mamme, le mogli, un po' di calcio pioneristico l'hanno fatto tutti. E poi pian piano, pian piano siamo cresciuti e adesso siamo qua che festeggiamo questi 75 anni molto importanti per noi. Come al di là degli inizi, durante la guerra, come è cambiata la società negli anni più recenti? Diciamo, facciamo un discorso che parte dagli anni 60, da quando bene o male l'organizzazione non risentiva più appunto del periodo post bellico, che poi penso sia un discorso relativamente comune a più società fondamentalmente. Tutte le federazioni sportive, c'è stato il boom economico, il boom economico. Cosa succedeva col boom economico? Tanto tengo questo per altre cose, poi parliamo anche di questo. Questo è il libro vecchio che ho presentato io nel 2001, ho portato anche quello, tanto per... E allora, noi il boom economico, cosa succedeva, no? Il fatto che ti ho detto prima, le malie cucite sotto le ascelle e poi le scarpe della prima squadra passate al settore giovanile, con i buloni, con i chiodi dentro, con le vesciche. E poi è cambiato tutto, naturalmente con il benessere sono arrivate le mute di maglie nuove, le scarpe nuove e si giocava veramente, si giocava bene, si giocava bene, però naturalmente i terreni erano quelli che erano, la terra, il fango e comunque siamo andati avanti pian 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 piano e comunque il calcio ha avuto un'evoluzione sicuramente, come in tutti gli sport. Noi siamo passati dalla precarietà, diciamo così, alla modernità, abbiamo risentito, avevamo le tute belle, avevamo le scarpe di allenamento e poi naturalmente i nostri ragazzi hanno iniziato l'investimento nel settore giovanile, perché la nostra società ha puntato sempre e da sempre nel settore giovanile, perché noi abbiamo adesso 225 ragazzi circa, dai primi calci fino alla prima squadra. La formazione era quella, i bravi dagli allievi che a 16 anni possono giocare in prima squadra, 16 compiuti, se sono bravi vanno in prima squadra, i più bravi vanno via, diversi ragazzi hanno giocato, non faccio nomi per non lasciare fuori qualcuno poi, però sono andati in serie anche professionisti, A, B e C, sono ragazzi addirittura uno ha fatto la finale a Coppa dei Campioni con la Roma, per cui abbiamo una nostra storia, diciamo così. E continuiamo con questa, naturalmente ci sono i ricambi ogni anno di ragazzi che dal settore giovanile arrivano su in prima squadra. Che cosa attrae di una squadra più che di un'altra? Voglio dire, per esempio, facciamo un esempio, non so, c'è un ragazzo di 10 anni insomma che incomincia eccetera, capisce che gli piace giocare a calcio eccetera, perché va in una squadra piuttosto che in un'altra, per vicinanza di casa o poi dopo subentra? Ma un po' per vicinanza, un po' che ci sono i compagni di scuola, questa è una cosa importante, naturalmente abbiamo tanti ragazzi che sono la stessa classe, uno chiama l'altro, poi fanno delle amicizie che durano da sempre, anche oggi hanno 40-50 anni e sono sempre amici, come i compagni di scuola che avevamo noi. E così, poi simpatia anche l'Irione, quelli che abitano vicino vengono anche da altre parti. Naturalmente noi abbiamo cercato sempre di trattare i ragazzi, perché come dicevo anche l'altra volta, siamo prima padri di famiglia e dopo collaboriamo con le famiglie per l'educazione dei ragazzi, poi arriva il calcio, per cui c'è un certo binario, una certa strada che noi facciamo da sempre. Naturalmente poi le società, le società naturalmente sono in difficoltà, perché? Per questioni economiche, naturalmente noi siamo sempre in salita, cerchiamo di arrancare, diciamo quando un bilancio finisce alla pari siamo felici, tutti in rosso. E poi abbiamo una cosa importante noi, società San Giovanni, che i genitori dei ragazzi sono soci, fanno parte delle assemblee, io faccio presidente assemblee, i bilanci, la società viene gestita da tutti, dai genitori, i genitori sanno tutto quello che è successo. Questo è importante anche per noi. Ma è importante perché è giusto, per noi va solo che bene, perché abbiamo sempre raccontato che i genitori e la società vengono là, ci sono le assemblee, poi presentiamo dei programmi e quando c'è il consiglio del San Giovanni, ci sono le lezioni, viene presentato un bilancio preventivo, consultivo e viene votato da tutti, praticamente insomma, è una grande famiglia, è gestita da tutti. Tu dicevi le famiglie, quando si parla in genere, molto probabilmente chi conosce il mondo del calcio giovanile solo superficialmente, però molti stigmatizzano l'atteggiamento delle famiglie nei confronti del ragazzo che gioca calcio, sotto certi aspetti anche comprensibile, credo sia la stessa roba di quando uno fa teatro, nel senso vorrebbe sempre che il figlio facesse il protagonista, eccetera. Il discorso bisogna come tu, scusate, frutti di stagione, il discorso come tu gestissi la squadra, perché naturalmente quando si allena, io ho allenato, 50% di problemi, meno quando gestissi lo spogliatoio, come gestissi i ragazzi? mai dire bugie ai ragazzi, promettere, poi rispettarli, rispettarli, non ho avuto mai problemi con i ragazzi, ti danno del tuo perché è normale, no? Vabbè, sì. E così bisogna gestire anche i genitori, bisogna spiegare, bisogna spiegare se anche uno mi ha detto, ma perché non dà la maglia numero 10 a mio figlio, Maradona, arriva, e ho detto, cara signora, io, la signora, perché sempre le mamme, sì, signora, sempre le mamme, ma le mamme, cuore di mamme, i papà sono già più non gestibili, comunque, allora ho detto, cara signora, noi le assicuriamo che un paio di anni le consegniamo un ragazzo sano fisicamente e moralmente, questo è il nostro compito. Che poi dopo, non cambia mai numero 10 o altro, insomma. Ma no, ma quella è un'ambizione che hanno tutti, comunque bisogna saper gestire, quello che mi ha ammareggiato molto, che si sono azuffati una partita, non dico dove, non dico che squadre, i genitori dei Puccini si sono azuffati e là mi sono un po' ammareggiato, ho detto, ma tutto il nostro lavoro. Sì, alla fine poi si finisce. Da dove invece, come si, come posso dire, come si gestisce, questo credo sia compito anche dell'allenatore, come si gestisce il momento di divertimento, che deve esserci comunque quando si pratica uno sport, dal momento agonistico che parte altrettanto integrante del momento sportivo. Come vanno avanti queste due cose? Cioè, l'allenamento non deve essere, tu devi essere furbo, devono fare l'allenamento, però deve abbinare il divertimento. Naturalmente tu puoi fare una parte così, poi dove si divertono, quando fanno le partitelle, bimbo baci, divertono, ridono, scappò degli esercizi, là bisogna saper gestire, i ragazzi che non si annoino. E poi naturalmente bisogna parlare moltissimo per l'incontro, l'incontro, mai fare drammi quando si perde, perché uno se non sa perdere, perde, perde, merito suo, perde merito degli altri, qualche rigore non dato, ma questo è un po' parte del calcio. Chiuso, andiamo via, la protesta non serve niente, nessun arbitro ha detto, arbitro non era rigore, bobo scusate non è rigore, non esiste, complichi la situazione, casomai se un arbitro che non va a protestare è la società, ma noi in campo dobbiamo, i ragazzi devono comportarsi bene. Per noi il problema più importante è la coppa disciplina, noi abbiamo tante in società, questo per noi è già una vittoria, abbiamo vinto il campionato. Però voglio dire, sì, i due momenti devono per forza andare in parallelo, in parallelo che poi naturalmente, quando poi la domenica deve essere un divertimento, la trasferta, vengono le mamme, portano i dolci, c'è la compagnia, si mangia il panino assieme, ciò deve essere anche un momento di aggregazione. Ti faccio una domanda, questo forse può essere più valido per uno sport individuale, però mi chiedo, io non ho mai fatto sport, no, io ho fatto, ho fatto che correvo. Ok, i precedenti, uno, però ho fatto la 24 per un'ora e l'ho percorso. Quella è stata memorabile, Roberto, quella lì a ristrarne la storia. 14 chilometri 770, se Maurizio De Ponte non mi offriva del tè, che io da perfetto britannico mi sono fermato per bere il tè, andavo sopra il muro dei 15 chilometri, che sarebbe comunque dei 15, sì, dei 15 chilometri. No, invece volevo chiedere questo, c'è stato mai qualcuno che non ha, come posso dire, che non ha sopportato, non è un bel termine, ma che comunque si è tirato indietro perché magari non sopportava il momento agonistico. Mi rendo conto che è più una domanda per sport individuali, c'è qualcuno che poi magari comincia a fare sport per gioco, supera la soglia, e poi dice, ma no, non mi diverto più, sono troppo responsabilità. Qua mi rendo conto che è un discorso leggermente diverso, però può darsi il caso. Può darsi, può darsi, però tu devi vedere i ragazzi, perché sai, c'hanno la fidanzatina, vanno male a scuola, succede qualcosa, allora capisci, ce n'hai 18, come tutti gli insegnanti, vedo quello è un po' così, in depressione, ha qualche problema, allora lo chiami là, dice, guarda, mi fai un quarto d'ora, venti minuti, riposi, e così se non trovi più stimoli, ne parliamo, magari martedì si parla, lo prendi in parte, scopri che problemi, no? Perché poi il ragazzo, se ha fiducia in te, ti confida tutto sui problemi di scuola, addirittura certi genitori ti dicono, ma gli osproni, ragazzi, guardate che la mamma è per fare sacrificio, preparate di studiare, dovete studiare, perché non mi invitemi a dire che non si può fare sport e studio, sono diventati campioni studiando e facendo dello sport, per cui i ragazzi come la gioventù vanno gestiti, c'è un problema, per questo neanche i preparatori ti hanno fatto fare un po' di psicopedagogia per capire... Perché voi dovete capire anche questo, no? E questo è molto importante. E si percepisce subito? Ma evidentemente, evidentemente, addirittura a una certa età, tu vedi subito quattro giocatori diversi, o sono figli di genitori separati o non... Riesci a capire. Eh sì, riesci a capire perché non sono come gli altri. Allora c'è qualcosa che poi pian piano... Sì, poi si smussa... Naturalmente, e cerchi di aiutare questi ragazzi, no? Naturalmente. Quindi sì, sì, sì. Però vedi che c'è qualcosa che non va, no? Vedi che sono un po' così, diremmo, estroversi, sono un po' timidi, un po' così, no? Non partecipano perché se poi i ragazzi scarsano, giocano, gli spogliantoio... Sì, sì, capisci subito che c'è... Ci sono i ragazzi di scuola. Laddove invece si capisce altrettanto presto che uno è un talento o là non è così... Il talento nasce, lo vedi subito, si distingue, viene fuori, lo vedi subito, addirittura già da esordiente. C'è una marcia in più, esordiente vuol dire dai dieci ai dodici anni, dai dodici ai quattordici giovanissimi, quattordici, sedici allievi, poi ci sono gli uniones, ma sedici compiuti possono già giocare in prima squadra. No, vedi che Gianni Rivera è debuttato all'Alessandria a diciassette anni, dunque era un fuoriclasse. E là vedi quello che c'è un talento in più, poi c'è anche diversi tecnici che vedono poi quello là, magari sono già le squadre professionistiche che vengono là, li seguono, ci sono gli osservatori. Allora ti chiedono ragazzo, adesso abbiamo in giro diversi ragazzi, anche delle squadre maggiori, i professionisti li prendono nei settori giovanili, li fanno studiare e poi giocano. Comunque il talento lo vedi. Il talento lo vedi subito. Allora, parliamo del libro, un attimo accenniamo, anche perché lo ha scritto un amico che è Dante di Ragone. Un grande amico, abbiamo fatto già il libro degli anni 60 che tu hai visto, e qua è tutto dentro, i 60 più 15, abbiamo fatto un libro nuovo, completamente nuovo. Addirittura questo è di pacca, come si dice, addirittura con il nylon ancora. Ho promesso che non lo apro, allora dobbiamo dare il promesso. Facciamo vedere un attimo, anche una bella copertina devo dire la verità. Sì, sì, la copertina del 75, e dietro ci sono i campi, qua c'erano le famose piantagioni, come se dici in Triestino, levanese del radiccio. E qui sì, perché poi non dobbiamo dimenticare anche il campo che è parte integrante. Il campo, il campo, andando su verso San Giovanni, verso la chiesa in Viale Sanzio, parlavo prima con Domagnati che era con noi alle Sperie a tanti anni, e a sinistra c'erano tutte queste piantagioni di verdura, e alla destra c'era un torrente, il famoso Patocca, la Triestina, e poi hanno costruito questo campo di calcio nel 1941, subito dopo. E poi qua abbiamo quello che era in terra. E non si vede, sa, per cui... Sì, e poi questo è ultimo, con la sede nuova, ma al piccolo, comunque è tutto qua, è tutto qua, in questo libro qua. Comunque l'abbiamo fatto con Dante, abbiamo continuato la nostra collaborazione, anche con Paolo Rovis, della tipografia. Abbiamo lavorato quasi un anno per fare questo, perché naturalmente bisognava reperire le foto porta a porta, perché tutto in bianco e nero, dal 1941 in poi. E poi abbiamo giunto a questi 15, comunque qua è compresa tutta la storia del... Questo quando verrà? Non è anche... quando sarà pronto? Sarà pronto circa per domenica. Ah, proprio in occasione del... E in occasione, in occasione un po' di copie le distribuiremo. Allora, domenica che cosa succede? Domenica, allora, noi alle 17.30 iniziamo uno spettacolo e qua ci sono i veri protagonisti dello spettacolo, perché naturalmente dalle 17.30 alle 20.30 raduniamo tutti i dirigenti, tecnici e calciatori della nostra storia al teatro alla Sala Tribbucci. E là, naturalmente, faremo anche di spettacoli, perché ci sono i bambini, ecco io, vedi qua, è condotto da Francesco Gullo, che è un uomo della televisione di Italia 1, è un regista e conduttore di spettacoli, lui gestirà. Poi abbiamo Usman Itos, che è uno che fa dei giochi col pallone di calcio, un giocogliere, no? E poi c'è il cantante Fabio Rosso, e poi c'è Denis Novato, quello che ha suonato per il Pontefice, per il Papa Francesco. Che prima o dopo dovremmo avere anche ospite, perché, insomma, se riusciamo a beccarlo tra tutti i suoi impegni... Sì, sì, no, naturalmente ero proprio ieri con lui, si parlava proprio di un impegno futuro che vuole fare lui qua col Principe di Monaco, no? Col Principe... Sì, addirittura, ma parleremo in seguito, una cosa molto importante, no? Adesso parliamo... Poi c'è il Labio, Fabio Furian e Maxino, e poi c'è il mago Denis, per i bambini, così si divertono, no? Abbiamo cercato di raggruppare insieme questo spettacolo, gestito da regista, da Francesco Ungulo, e così poi nel mezzo faremo delle premiazioni che amaremo sui giocatori, quelli che hanno tante partite... Ci sarà anche un Amarcord dopo, alla fine... Poi ci sono i Amarcord, poi c'è... Ci saranno dei riconoscimenti ai vari canonieri, le presenze, le Saracinesche, i portieri, comunque... Ah, le Saracinesche e i portieri, sì... Sì, no? Ogni tanto... E comunque noi cercheremo di ricordarci di tutti, soprattutto quelli che non ci sono più e quelli anche che hanno lavorato in tempi molto difficili. Ecco, già che ci siamo, c'è un appunto che volevo fare, per l'amor di Dio, ma mi è venuto in mente adesso... No, no, giusto, giusto. Ho visto prima, guardando le foto del vecchio libro, a me sembra, sotto certi aspetti incomprensibile, che questa città non abbia dedicato nulla a Valcareggi. Mi sembra stranissimo, perché ciò... Nato a Trieste, se vogliamo, l'ultima volta che la nazionale italiana di calcio ha vinto un campionato europeo fu con Valcareggi, perché poi dal 68, se non mi sbaglio, non ne abbiamo più vinto uno, io non riesco a capire perché non ci sia... Sì, è lì... È un problema... Giustamente, come meritevolmente hanno dedicato, abbiamo, sul suggerimento di tutti, dedicato lo stadio a Nereo Rocco, il nostro grande personaggio, giustamente, la tua osservazione per me è molto pertinente. Mi sembra un po' strano. E questo, naturalmente, sai, la nostra città, nel nostro mondo, devo dire la verità, anche del volontariato, tu lavori 30-40 anni, fai volontariato... Sì, sì, nessun... Ti danno qualche riconoscimento, alcuni, ma però... Poi vai via la domenica sera, lunedì, non si ricorda nessuno, chi è quello? Oh, ha lavorato 40 anni, quello, quello... No, è un po'... Va un po' nel dimenticatoio, ha preso la tua... Voglio dire, non pensare che nel mondo dello spettacolo sia diverso... No, ma... Appunto, appunto... Però, voglio dire, avendo visto, avendo visto l'immagine di Val Carenzi... È perfettamente giusto, vedi noi, sa Giovanni, io mi sono portato il nome di tutti i presidenti, perché il primo presidente era Austro e Nickel, io, questi hanno più anni, no? Ma li elencherò tutti. Poi, Giovanni Vazzista Simoncini, Sparta-Goventura, che lui era dall'80 al 94, e adesso il 2004 è sempre là, lui è il decano dei presidenti, poi c'era Mario Suzzi, Umberto Cigilino, Francesco Stupar, Mario Stigliani e Stelio Petelin. Qua mi fermo, perché sono due nostri ex giocatori, no? Stigliani, che adesso è il figlio anche... Cioè... E allora hanno fatto anche i presidenti, anche Stelio Petelin, poi c'è Salvatore Colino, ex vicepresidente della Triestina, era anche presidente di San Giovanni, quella volta ero io vicepresidente del gestivo della società, e poi Ezio Simoncini è scomparso prematuramente nel 2004. Praticamente, la società ha avuto dei presidenti, dei presidenti che ci sono dedicati al massimo, no? Addirittura con la gestione Colino abbiamo allargato il campo di gioco, perché si giocava in deroghe, c'è il 60 metri, hanno portato via un pezzo di gradinata, no? Sì, 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 sì. Sì, perché se no la federazione giocava in deroghe, quella volta facevamo il campionato di eccellenza. E chiaramente, poi nel 72 abbiamo tentato, cioè c'erano due società, hanno tentato noi, e c'era il ciclo marina mercantile, abbiamo tentato di mettere l'erba, ma è durato un disastro. Tutte le squadre di Salire, con i bambini, abbiamo tentato. Perché poi dopo, voglio dire, 75 anni di vita di una squadra, ci sono anche queste cose qua, insomma. Ci sono gli aneddoti, e tra l'altro dico io qua, adesso che sono in televisione, dico a tutti, quelli che hanno partecipato, perché naturalmente, noi, vedi, noi siamo sempre là, non c'è un direttivo, adesso c'è un presidente, un vicepresidente, un direttivo, no? E poi ci sono i collaboratori esterni, come siamo noi, no? Poi ci sono naturalmente i nostri consiglieri, i nostri soci, ciò che sono i genitori, la collaboratori, voglio dire anche quelli che hanno lavorato per noi. Noi non vogliamo dimenticare nessuno, sono tutti ben accetti domenica, no? Per fare, per fare una rimpatriata di tutti i nostri, quelli che hanno lavorato. Perché dietro una volta, purtroppo non ci sono più, c'erano i calciolaio una volta, no? Avevamo sempre il calciolaio, che ti metteva il bullone. Che ti metteva, giusto. E allora dico tutti, perché la nostra società ha una grande storia, noi abbiamo sempre guardato i rapporti umani, naturalmente le collaborazioni, non dimenticarsi nessuno, coinvolgere tutti, perché la società è di tutti, perché da solo... Se no, non se va avanti. Non te va avanti, non te va da nessuna parte. Allora vorrei soffermarmi un attimino. Abbiamo ancora due minuti. Due minuti, va bene, allora questi due minuti, intanto ringrazio Telequattro, ringrazio Umberto Bosani, eh no, beh, guarda, tu sei una persona che io apprezzo molto, ti ascolto sempre, non... I sportivi non violinano mai, dicono la verità. Ringrazio la redazione di Telequattro, saluto tutti, mi raccomando, i saggiovanini, venite a trovarci, domenica 18, 17.30, Sala Tripcovici. Sala Tripcovici. Vi divertirete. Allora, ricordiamo, proprio perché siccome c'è questa, che non si faccia confusione, l'appuntamento, è per domenica prossima, domenica pomeriggio, alle 17.30, in Sala Tripcovici. Tre ore di spettacoli, di spettacoli, premiazioni, premiazioni, eccetera. E riconoscimenti vari. Grazie ancora a Franco Bloccari per essere stato con noi, buon lavoro, e tanti auguri al San Giovanni per questi, e per questi primi 75 anni, e per tutti gli anni a venire. pubblicità. Non ho le capacità di Fregoli, di cambiare giacca e pantaloni in tempi così brevi, e il nostro ospite in questa seconda parte, il dottor Paolo Sant'Angelo, che è il segretario generale della Fondazione Cere Trieste, grazie dottor Sant'Angelo di essere tornato a trovarci, per parlare dell'impegno della Fondazione nel campo del sociale, diciamo così. Noi ci occupiamo molto spesso di quello che fate in tutti i campi, per dire la verità. Non ultimo, fra l'altro, questa mattina, nel telegiornale di questa sera, vedrete le immagini dell'inaugurazione della sala Labor, della biblioteca, qui del seminario, avvenuta anche grazie al contributo della Fondazione. In questi giorni, mi pare che si è intensificato il numero di consegne di mezzi di trasporto per le società sportive, ma non solo per le società sportive, però c'è un aspetto proprio del vostro impegno che è dedicato specificatamente al sociale. Secondo, quale concezione, diciamo così, del sociale? Buonasera a tutti i telespettatori, ben trovati. è vero, il tema del sociale è quello sul quale da molti anni la Fondazione dedica grande attenzione anche a gran parte delle proprie risorse. Tutti noi sappiamo come il nostro tessuto sociale abbia bisogno di sostegno. la Fondazione ha individuato come primario obiettivo nel programma triennale, quello che andava dal 2014-2016 che si sta concludendo, ma posso anticipare che già il documento programmatico triennale 2017-2019 ha ricalcato questi aspetti, per cui grande attenzione alle tematiche del sociale, della povertà, dell'inclusione. quindi abbiamo fatto, è un filone su cui da sempre la Fondazione agisce, ma negli ultimi anni lo stiamo facendo in maniera un po' più organica. Proprio perché il nostro documento triennale ci chiedeva questo, gli uffici e il Consiglio di Amministrazione hanno operato in maniera strutturata, quindi ricordo distintamente come a fine del 2014, quindi abbastanza tempo fa, abbiamo chiesto un incontro ai principali operatori del privato sociale triestini, quindi Caritas, San Martino al Campo, Sant'Egidio, Croce Rossa, ecco, questi soggetti li abbiamo convocati presso la nostra sala del Consiglio Generale e sono venuti non tanto i vertici ma proprio coloro che operano, no? I responsabili delle strutture operative e abbiamo chiesto loro conferma sui loro ambiti di azione, quindi per capire se effettivamente le nostre informazioni erano corrette quindi sapere come operano, di quali risorse hanno bisogno eccetera, ma soprattutto di cosa avessero bisogno e quindi le loro antenne che sono le più importanti diciamo sul nostro territorio ci hanno confermato quelle che erano le nostre convinzioni, possiamo dire che abbiamo scoperto l'acqua calda ovvero che le necessità principali sono casa, lavoro e beni di prima necessità è ovvio, però articolati in molteplici aspetti e quindi da lì siamo partiti e abbiamo cercato insieme a loro quindi mettendo a disposizione le risorse nostre ma anche energie e quindi capacità anche di coordinare gli enti abbiamo cercato di operare in questo senso e quindi se vorrà possiamo magari andare più nel dettaglio. Io ho visto per esempio negli appunti che mi sono stati inviati c'è da dire anche questo che molto spesso questo tipo di intervento è un intervento che viene fatto diciamo così non vuole dire in silenzio ma logicamente non viene un conto è appunto un'inaugurazione un conto è una consegna è logico che ci sia diciamo così un minimo di coreografia per queste cose in altre circostanze ciò avviene senza una enorme gran cassa pubblicitaria ma paradossalmente per di capire più continuativamente sì sì certamente qui c'è un problema anche di rispetto della dignità delle persone naturalmente quindi questa è la cosa importante cerchiamo di agire in silenzio o quasi però come in questa occasione anche in altre è giusto che la comunità a cui noi facciamo riferimento sappia come operiamo è giusto che si sappia ed è anche giusto che si sappia come le emergenze ci sono si cerca di affrontarle per cui credo che sia giusto che ciascuno a modo proprio possa contribuire a creare questo che possiamo definire welfare di comunità in qualche modo ecco una delle prime iniziative è borse lavoro a favore di adulti in condizioni di disagio socio-economico sì come abbiamo detto prima il lavoro era una delle priorità che hanno state evidenziate è ovvio che se avessimo la bacchetta magica noi e anche il governo e chiunque su come creare posti di lavoro lo faremo naturalmente non è così le nostre risorse comunque importanti ma non sono infinite quindi abbiamo ritenuto di operare attraverso questo strumento che come dicevo prima consente di dare un aiuto alle persone ma non è un aiuto a fondo perduto non è l'elemosina è dare a loro la dignità del lavoro per un periodo innanzitutto e poi l'elemento di novità è questo già le borse lavoro esistono vengono fatte attraverso il comune di Trieste e anche questo è anche questo strumento nostro è fatto attraverso il comune di Trieste ma l'elemento in più che noi abbiamo cercato di apportare è non solo l'apporto di denaro quindi sono al momento siamo partiti con 10 borse dal valore di 4.700 euro ciascuna della durata di un anno ma abbiamo cercato di fare rete con le associazioni di categoria che opera nel nostro territorio in modo tale che i soggetti gli artigiani gli industriali i commercianti che hanno la possibilità la necessità di avere delle persone a loro supporto ma anche la possibilità di formarli e di seguirli possano aiutare queste persone che sono a ricerca del posto di lavoro o magari anche a ricerca di riconvertirsi perché espulsi dal mercato del lavoro di poter essere in qualche modo di aggiornare la loro formazione e che quindi questo anno possa essere un anno di passaggio per poi trovare un po' alla volta un posto nuovamente diciamo sicuro e solido non possiamo pensare che di queste 10 borse tutti avranno un esito del tutto positivo ma se già qualcuna di queste lo fosse credo che sarebbe un grandissimo successo per tutti noi vi si accede attraverso il servizio integrazione inserimento lavoro del comune sì esatto come dicevo prima gli intermediari lo fanno il comune è giusto che sia così faremo degli incontri mensili presso la nostra sede in cui insieme gli operatori del comune e ai responsabili delle associazioni e categorie faremo poi il punto per vedere se effettivamente è stato matchato in maniera corretta la richiesta e la domanda e vedere come possiamo aiutare queste persone a inserirsi ancora meglio è un progetto pilota a seconda di come andrà penso che lo rifinanzieremo e magari potremo anche irrobustirlo dal punto di vista economico ed è parte di una visione di una progettazione più ampia sì assolutamente c'è il solito e consueto sostegno in termini economici attraverso borse della spesa o buoni spesa che facciamo attraverso in particolare la Croce Rossa e la Caritas in questo caso diamo loro la Caritas ha sapete l'emporio della solidarietà che si trova è un supermercato a cui le persone in stato di disagio possono accedere attraverso dei buoni appunti diciamo con delle tesse magnetiche che vengono ricaricate e trovano appunto dei beni di prima necessità sia cibo che anche vestiario o beni per l'igiene personale invece la Croce Rossa attraverso i propri assistiti opera dando o borse con viveri quindi olio pasta uova queste scatolame eccetera oppure dando anche a loro in questo caso dei buoni delle tessere in passato facciamo con le coppa adesso facciamo con altri con altri operatori e possiamo dirlo visto che cooperano in termini economici applicando gli sconti con il gruppo d'Espare in questo momento questi sono gli elementi principali e poi l'elemento di novità su cui stiamo lavorando è questo cercando come dicevo prima di fare rete e fare in modo che tutte le associazioni siano conoscenza di come operano gli altri di fare in modo che abbiano uno strumento informatico un software che consenta loro di poter seguire il singolo assistito o i gruppi familiari in modo tale che Caritas sappia quello che fa Croce Rossa Sant'Egidio eccetera eccetera e questo è uno strumento su cui stiamo lavorando insieme al Comune di Trieste e ho già visto ho potuto vedere la versione diciamo beta credo che si chiami e a breve verrà perfezionato e poi naturalmente vedremo presentarlo anche qui perfetto poi c'è un'altra cosa che a me interessa interessa particolarmente cioè colpisce particolarmente ed è il fondo per il contrasto della povertà educativa minorile cioè interventi per i bambini esattamente questo è un progetto nazionale nell'aprile di quest'anno l'ACRI che è l'associazione che coordina tutte le 88 fondazioni di origini bancari italiani e il governo hanno sottoscritto un protocollo di intesa a fronte del quale le fondazioni italiane mettono a disposizione di questo progetto 120 milioni di euro all'anno per tre anni ciascuna fondazione sulla base delle proprie dimensioni economiche la fondazione CRTS ha messo a disposizione 570 mila euro che vanno in questo fondo nazionale che però finanziare i progetti nazionali ma anche territoriali e locali hanno emanato hanno emanato due bandi al momento che vanno a coprire due fasce di età quella è la prima infanzia 0-6 anni e quella dell'adolescenza quindi direi 13-15 13-17 anni e questi sono i primi due bandi ma ne verranno emanati altri prossimamente per far sì che anche il nostro territorio possa beneficiare di questo di questo strumento stiamo cercando appunto di veicolare attraverso tutti gli organi e questa è un'occasione ma io personalmente ho trasmesso attraverso con una mailing list che noi abbiamo molto molto cospicua delle associazioni privato-sociali e anche delle scuole naturalmente perché parliamo per l'educativa quindi il mondo della scuola è certamente un soggetto che può beneficiare di questi fondi li abbiamo sensibilizzati ad assumere informazioni attraverso il portale che è stato costituito appositamente che si chiama ilbambino.org e in questo modo è possibile avere tutte le informazioni per partecipare a questi bandi il primo del quale scade a metà gennaio del prossimo anno quindi è opportuno che chi non l'ha fatto possa assumere le informazioni e cercare di partecipare parliamo di progetti ambiziosi quindi è importante che chi partecipi siano soggetti o molto strutturati di loro oppure che facciano rete quindi scuola privata sociale organizzazione del terzo settore eccetera tanto quando si parla di povertà educativa minorile lo spettro diciamo così delle possibilità di intervento è enorme perché non si tratta soltanto immagino di dare aiuto in dare aiuti come dire strutturali ma per esempio anche di intervenire in un modo leggermente diverso su fenomeni anche abbastanza preoccupanti quali per esempio l'abbandono scolastico che a sua volta può derivare anche da difficoltà della famiglia eccetera diciamo che io posso darvi solo degli elementi sintetici i titoli sono quelli che vi ho detto possono essere poi in realtà veicolati in manieri molteplici per cui sta a ciascun soggetto fare delle proposte autonome anche originali tra l'altro il programma prevede che entro il 16 gennaio vengano presentati i progetti poi viene fatta una selezione e in un secondo momento vengono chiesti ai selezionati i progetti esecutivi per cui inviterei chi ha delle idee a come dire lanciarle e verificare se sono in qualche modo compatibili con i finanziamenti che sono a disposizione per poi magari affinarli in un secondo momento il vostro proprio intervenire in questo modo su un tessuto come quello come quello triestino vi rende anche come dire vi pone in una situazione quella che è io detesto sempre dover ricorrere a questa locuzione giornalistica ma non me ne viene in mente un'altra è una sorta di virgolette osservatorio privilegiato che comprende quali sono poi i reali bisogni della città e anche le reali difficoltà della città fondamentalmente sì è vero è un osservatorio privilegiato noi abbiamo moltissimi interlocutori io prima ho citato i principali ma ce ne sono veramente molti altri che fanno a noi delle richieste quindi noi nella selezione delle richieste per assegnare contributi quindi sia gli uffici che anche il consiglio di amministrazione che poi è quello che delibera i contributi abbiamo leggiamo molte proposte molte storie anche che stanno dietro a queste proposte non solo però cerchiamo soprattutto nell'ambito della nostra programmazione pluriannale di fare delle analisi anche autonomamente quindi non ci basiamo soltanto sui dati empirici ma cerchiamo di strutturarci chiedendo a soggetti terzi svg per esempio o chi opera in ambito sociale di darci delle indicazioni su quali sono i bisogni reali e per aver conferme se effettivamente le richieste così come vengono poste vanno a colpire i bisogni veri della società tra le tante cose poi devo dire la verità che Michele Dacol mi ha inviato un molto dobbiamo anche voglio dire ringraziare gli uffici stampa delle volte perché quando fanno benissimo il loro lavoro bisogna farlo e noi abbiamo un paio di cui possiamo fidarci tra le tante cose che mi ha inviato Michele Dacol c'è anche un progetto che nell'anno 2015-2016 mi ha visti coinvolti con la fondazione Cacciaburlo e mi piace sottolinearlo perché anche questo è un progetto di aiuto ai minori ma oltre a fornire fornisce anche giocattoli, libri perché può sembrare un di più può sembrare un superfluo con tutti i problemi che una famiglia può avere perché pensare ai giocattoli ai libri per i bambini ma un bambino senza un senza un giocattolo è una cosa che a me mette una devo dire in realtà una tristezza incredibile forse perché io ne ho avuti tantissimi di giocattoli quindi vuol dire si deve intervenire anche su questo anche sull'aspetto più più ludico più leggero del gioco insomma se vogliamo certamente la fondazione grazie dell'invito la fondazione Cacciaburlo è un operatore con cui noi collaboriamo da molti anni questo progetto va avanti da direi almeno da 5-6 anni devo dire che proprio ieri è stato rifinanziato il nostro consiglio di amministrazione quindi è una primizia che possiamo dare credo che non lo sappiano nemmeno loro allora questa iniziativa penso che i telespettatori sappiano come la fondazione Cacciaburlo ha un patrimonio immobiliare che deriva da dei lasciti gestisce anche degli immobili di proprietà del comune di Trieste ed è diciamo va a intercettare quella fascia di soggetti che hanno i requisiti per l'edilizia residenziale pubblica ATER per noi ma che ancora non riescono ad entrare in graduatoria quindi danno la disponibilità di questi di questi appartamenti che loro hanno in alcune zone della nostra città per periodi limitati naturalmente mesi a volte anni finché non riescono ad ottenere delle sistemazioni più stabili e si tratta molto spesso di famiglie famiglie con bambini allora la casa diciamo viene già data con degli affitti diciamo sicuramente non a mercato molto bassi però si tratta di famiglie che hanno difficoltà anche magari a comprare i quaderni per i figli la penna o anche appunto come diceva i giocattoli parliamo anche di giocattoli tradizionali quelli nostri tempi non necessariamente i videogiochi insomma ecco e quindi attraverso dei buoni spesa che possono essere spesi in alcuni negozi convenzionati le famiglie possono periodicamente queste tessere vengono ricaricate periodicamente ma la gestione devo dire la fa in maniera assolutamente straordinaria lo staff della fondazione Cacciaburlo vengono distribuiti e consentito alle famiglie di in qualche modo allietare quindi col gioco che bene o male è anche una forma di apprendimento lo sappiamo bene un'ultima ci arriviamo verso la conclusione c'è poi anche l'impegno della fondazione questo è molto è molto noto è pubblicizzato però insomma Trieste è inutile non scopriamo sicuramente una novità è una città dove sono molti gli anziani dove sono molti gli anziani anche assistiti da istituzioni e anche in questo caso voi fate un'azione molto un'azione capillare sì è un'iniziativa di cui sono molto orgoglioso è nata ormai direi 6-7 anni fa l'abbiamo denominato progetto socializzazione anziani e si rivolge agli anziani che sono che vivono nelle strutture residenziali e che quindi hanno difficoltà a muoversi allora abbiamo cercato di portare a loro la città all'interno quindi sia attraverso la distribuzione gratuita del quotidiano locale che sapete che soprattutto per le persone anziane è un modo per avere un contatto con la vita cittadina oltre che naturalmente attraverso la televisione so che sono tutti quanti molto affezionati a voi anche a questa trasmissione e cerchiamo di portare all'interno di questi istituti degli spettacoli sia di tipo teatrale sia musicale però degli spettacoli che sono vestiti attorno alle esigenze che hanno questi anziani quindi spettacoli non molto lunghi ma molto allegri spesso con dei quali la musica la fa un po' da padrona soprattutto le canzoni che loro cantavano quando erano più giovani sì perché poi dopo si va sul sicuro in questo senso però certamente e quindi abbiamo da questo punto di vista la collaborazione è anche in questo caso devo dire molto molto positiva con l'associazione delle compagnie di Aletali di Triestina e l'Armonia con Giuliano Zanier che è il loro diciamo leader ma con tutto i loro sono amici nostri anche per cui sappiamo benissimo appunto per questo l'ho citato e poi con il conservatore Tartine è la Glasbena Matizza che offrono dei concerti da camera quindi o solo pianoforte oppure violino pianoforte e allietano i pomeriggi di questi nostri anziani e devo dire che i riscontri perché poi facciamo anche una sorta di verifica e ci siamo tarati negli anni cercando anche di modificare la tipologia di spettacoli devo dire che il risconto è molto molto positivo qual è invece adesso vediamo se riesco a formulare la domanda in maniera in maniera intelligente la allora in alcune vostre iniziative quelle diciamo quelle che riguardano più la cultura insomma il il ringraziamento la gratitudine è espressa diciamo durante la presentazione come qual è la gratitudine che vi arriva da questo tipo di iniziative che appunto per la loro stessa natura debbono rimanere usiamo il termine sotto traccia che non è bello nemmeno questo ma come come capite che le cose funzionano come vi viene detto grazie spero di aver reso la domanda direi molto bene ho due tipi di risposte uno gli occhi delle persone lo sguardo allora questo mi veniva in prima battuta veicolato proprio da giuliano e degli altri artisti che andavano e ci spiegavano come fossero contenti questi che chiamerei effettuosamente i nostri vecchietti in qualche modo e devo dire che ho avuto riscontro personalmente come in qualche occasione nelle conferenze stampa che facciamo presso la nostra sede alcuni di loro hanno desiderato venire e hanno preso la parola devo dire che è stato commovente quello ho visto anch'io un paio di volte e invece una cosa un riscontro proprio concreto e secondo me molto importante anche in questo caso posso dare una notizia ulteriore in anteprima ieri si è appunto venito dal nostro consiglio di amministrazione abbiamo esaminato una sorta di rendiconto dell'attività fatta con il nostro sostegno dalla comunità del Sant'Egidio nell'ambito dell'attività che svolgono quello a favore delle persone senza fissa dimora e ci hanno detto come nell'anno scorso sette persone spero di non sbagliare i numeri ma credo che siano corretti sette persone sono usciti dalla strada e quattro di loro hanno trovato addirittura lavoro attraverso il supporto che hanno dato naturalmente gli utenti sono moltissimi ma io credo che risultati come questi siano incontrovertibili ed è il motivo per cui abbiamo anche ritenuto anche ieri di rifinanziare questa iniziativa perché in quel caso basterebbe uno anche addirittura e sarebbe già una e naturalmente parliamo di persone che hanno veramente difficoltà a uscire da una situazione di grandissima immaginazione quindi credo che bisogna fare veramente il plauso io chiudo questo nostro incontro con una domanda non interessata perché comunque invece il libro sull'Arsa sapevo che saremo arrivati allora credo che lunedì dovrebbero arrivarci le prime copie del libro dedicato a Fra Giacomo ah perfetto che verrà distribuito come strena alle istituzioni e poi da gennaio in poi sarà disponibile agli appassionati poi dopo lei sa che a me piace sempre arrivare con l'autore o qualcuno per parlarne grazie allora al dottor Paolo Sant'Angelo che è il segretario generale della fondazione CR Trieste per essere stato con noi buone feste grazie buona feste a lei e a tutti i telespettatori pubblicità poi dopo scatta l'appuntamento del mercoledì con CISL in forma a tutti i telespettatori